Un ringraziamento a coloro che hanno contribuito e lavorato duramente per raggiungere questo importante risultato. A caldo, dopo l'assegnazione dei 20 milioni di euro del bando Borghi, il posto comparso sul sito facebook del comune di Castel del Giudice celebra lo straordinario risultato. Al foto finish il piccolo comune molisano, al confine con l'Abruzzo, ha ricevuto l'ok dalla commissione di valutazione della regione. La pubblicazione della determina e l'ultimo alto di una battaglia a colpi di carta bollata durata mesi. In prima battuta, ad aggiudicarsi gli enormi fondi dal PNRR, tra i 27 comuni concorrenti era stato quello di Pietrabbondante. Castel del Giudice, secondo in graduatoria, ha fatto ricorso puntando il dito contro il comune vincitore. Ha più delle 300 unità abitative indicate nel bando come numero massimo per partecipare. L'avvertenza legale culminata con la decisione del Consiglio di Stato che ha escluso proprio Pietrabbondante. Di lì la palla ha passata alla regione, attraverso la citata commissione sciolta la riserva che intanto pendeva sul comune ricorrente, verificata cioè l'effettiva correttezza della perimetrazione del suo burgo storico. Il tutto qualche giorno prima della scadenza del termine che il Ministero della Cultura avrebbe imposto alla regione per indicare il vincitore. Ora alla fine dell'estenuante querel, a Castel del Giudice, si attende il varo del decreto del finanziamento da parte del governo. Intanto la parola d'ordine è rigenerazione. Parola del sindacolino gentile. Vogliamo portare avanti un percorso che abbiamo inviato da tanti anni, un percorso di rigenerazione non soltanto fisica ma anche sociale, economica, perché siamo convinti che nei piccoli comuni c'è il futuro del paese e lo vogliamo sperimentare. Questa è una grande opportunità, avevamo già un percorso avviato ma con i 20 milioni possiamo farlo in tempo molto più ristretto e con obiettivi anche più ambiziosi. Abbiamo messo in campo una serie di progetti importanti, innovativi, perché con l'innovazione si vince la sfida e anche mettendo in campo un sistema di competenze fatto dall'università, in primisla dell'Università del Molise, che ci daranno un contributo importante e non lo faremo soltanto per Castel del Giudice. Questo è importante, ci sono dei progetti che già guardano il territorio anche oltre il confine regionale, perché un piccolo comune deve diventare nella filosofia della missione del PNRR modello, pilota e noi siamo pronti ad affrontare la sfida. Un pensiero anche per il comune competitor. Per Pietrabondante c'è un'altra strada, dice ancora il primo cittadino. Pietrabondante è un progetto paradossale, che la maggior parte del finanziamento di Pietrabondante andava su un sito dello Stato, allora questi sono fondi che il PNRR ha riconosciuto ai comuni, ai piccoli comuni, era un paradosso, che il Ministero della Cultura dava con una mano, dava i soldi al comune di Pietrabondante e dall'altra li riprendeva per fare un... Allora c'erano già delle esperienze, noi le abbiamo indicate il 7, l'8 di marzo 2022, che c'erano già delle misure specifiche del PNR della Cultura per gli attrattori culturali dell'Avanza Nazionale. L'abbiamo indicato, lo spero, lo faccio con grande volontà, con grande partecipazione, che Pietrabondante possa acquisire queste risorse per gli attrattori culturali e quindi possa completare anche il loro progetto, che sono assolutamente compatibili, perché non era coerente con la misura del PNRR. Grazie. Grazie.